Quest'anno, circuito di gara Theodor Ross. Presto in tutte le officine, l'avventura di un'impavida sfavorita faccia a faccia con una gigantesca sfida. Nessuno le avrebbe dato una seconda chance, nessuno credeva nella sua squadra o conosceva i suoi segreti, ma qualcosa sta cambiando e velocemente. La gara è iniziata. Terrorzone.